Era da tempo che aspettavo di fare questo video E che bello Facciamo un video bello E salve a tutti ragazzi Ok non è bello Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Odaka E oggi siamo Su un nuovo video Yeee Che bello Piatto Creiamo piatto al mondo E adesso voglio far Voglio far Una cosa che si vede molto Su tiktok Cioè sapete di tiktok minecraftiani Ecco Quelli fatti da mine Quelli fatti su minecraft Ecco Allora Aiutatemi Allora entriamo nel mondo Subito legna Subito Uovo di cane E subito porta Dov'è l'uovo di cane? Ok Allora Subito Uovo Uomo di cane Che io mi devo spiegare Che devo pure fare i campi Aiuto 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 Allora Uovo di coniglio Uomo di coniglio Uomo di mucca Uomo 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 di mula Uomo di nana Di cavallo Di acolo Mula Uomo di mucca Dai Dai Allora Dai Dov'è il cane di lupo? Allora Se sentite un po' di rumori E perché Sono In un'altra camera Oggi Quindi non si sentirà molto silenzio Perché E no Quasi Mi andava di Registare in un'altra camera Ma dov'è il coso di cavallo? C'è di Il coso di cavallo? Uovo Di Di lama L'uovo di lupo Eccolo qua Iniziamo Allora Facciamo Uno Due Tre Ok Poi Così 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 Dio mio Allora Ok 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 Allora Continuiamo così Facciamo Così 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 Allora Chiudiamo qua Forse avete capito Di cosa Di cosa voglio fare Ma non sono sicuro Di farlo così Quindi Lo ringrandisco Un po' Lo ringrandisco Che Che parola Uno mio Così Allora Dobbiamo fare una stanzetta Con solamente Una portella Una stanzetta Bella Ok Mettiamo No Colpito Vabbè Ne mettiamo Tanti Sono incazzati No Ok Ok Sono usciti Tutti Di colpo E hanno ammazzato Una povera pecora Quindi Niente Continuiamo A metterli Ok Picchiamo Questo Apriamo Una porta Vabbè Non escono Sono cani Ah 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 Ah